Il 17 luglio del 1821, leggendo la Gazzetta di Milano del giorno precedente, Alessandro Manzoni viene a conoscenza della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta il 5 maggio dello stesso anno nel suo esilio sull'isola di Sant'Ele. Manzoni aveva già incontrato Napoleone all'età di 15 anni al teatro alla Scala, dove era rimasto colpito dal suo sguardo penetrante e dal magnetismo emanato dalla sua persona, in cui riconosce l'artefice del trapasso da un'epoca storica a un'altra. A differenza di altri poeti suoi contemporanei, quali Ugo Foscolo e Vincenzo Monti, Manzoni non aveva però mai manifestato né plausolo né critica nei confronti dell'imperatore. Dopo aver appreso della sua morte e della conversione al cristianesimo, avvenuto poco prima del trapasso, Manzoni, profondamente commosso, compone di getto la prima bozza di quella che, appena tre giorni dopo sarebbe diventata la versione definitiva del 5 maggio, con una rapidità decisamente strana al suo temperamento riflessivo. Il poeta presenta l'opera, la censura austriaca, che non ne consente la pubblicazione in quanto la ritiene un omaggio troppo evidente al suo temuto nemico. Manzoni però ha la prudenza di preparare due esemplari del testo, uno dei quali viene trattenuto dal censore, mentre l'altro riesce a circolare in forma manoscritta anche al di fuori del regno lombardo, Veneto, in Francia e in Germania. Tra i più illustri ammiratori dell'ode ricordiamo Johann Wolfgang von Goethe, che la traduce nel 1822 per poi farla pubblicare su una rivista letteraria l'anno successivo. Parliamo adesso della metrica e dello stile. Il 5 maggio è un'ode composta da 108 versi raggruppati in 18 strofe di 6 settenari. Ricordiamo che il settenari è un verso in cui l'accento principale si trova sulla sesta sillaba. Quindi se l'ultima parola è piana, il settenario ha 7 sillabe, mentre se è tronca o sdrucciola ne ha rispettivamente 6 o 8. Altro veloce chiarimento, si dice piana, una parola che ha l'accento tonico sulla penultima sillaba, ad esempio continente, tartaruga. Si dice tronca, invece, una parola con l'accento tonico sull'ultima sillaba, quindi virtù, libertà, eccetera. E si dice sdrucciola, una parola che ha l'accento tonico sulla terz'ultima sillaba, quindi tavolo, esile, eccetera. Nel 5 maggio il primo, il terzo e il quinto settenario di ogni strofa sono sdruccioli e non sono rimati. Il secondo e il quarto sono rimati fra loro e terminano con una parola piana, mentre il sesto e ultimo settenario è tronco e rima con l'ultimo verso della strofa successiva. Complessivamente i settenari sono rimati secondo lo schema A, B, C, B, D, E, F, G, H, G, I, E. Il poema può essere suddiviso in tre parti. Nella prima, composta da quattro strofe, quindi i versi dal primo al ventiquattresimo, viene presentato il tema dell'ode. Nella seconda di dieci strofe, i versi dal venticinquesimo all'ottantaquattresimo, Manzoni ripercorre le vicissitudini dell'epoca napoleonica, raccontando i momenti salienti del Napoleone condottiero e imperatore nei versi dal venticinque al cinquantaquattresimo e soffermandosi poi sull'esilio a Sant'Enera nei versi dal cinquantacinque all'ottantaquattro. Le ultime quattro strofe sono infine dedicate alle riflessioni morali e religiose del poeta. Qualche parola adesso sui contenuti dell'opera. L'intento del Manzoni nello scrivere il 5 maggio non è quello di glorificare la figura di Napoleone né quello di muovere a pietà il lettore per il suo destino, bensì quello di illustrare il ruolo salvifico della grazia divina offrendo al contempo uno spaccato esistenziale della vita di Napoleone. Il 5 maggio ha inizio con le celeberrime parole EI FU con le quali Manzoni annuncia al lettore la morte di Napoleone. Il solenne pronome personale EI pone l'accento sulla fama di Napoleone, talmente conosciuto che non ha bisogno di essere chiamato per nome, mentre la scelta del passato remoto nel verbo FU vuole allontanare nel tempo l'epopea napoleonica e segnalarla al lettore come un evento definitivamente concluso, con una chiara allusione all'inesorabilità dello scorrere del tempo e alla natura effimera della gloria terrena. Manzoni passa poi a descrivere l'immobile stupore dell'intera popolazione umana rimasta attonita alla notizia della morte di Napoleone. Dell'uomo fatale così potente da poter decidere il destino del mondo ormai non rimane che una spoglia in memore. Niente in essa serba memoria della gloria passata e nessuno sa quando il passo di un uomo così grande calpesterà ancora la cruenta polvere del mondo. Nei versi successivi Manzoni accenna alle ultime vicende militari di Napoleone, la sconfitta di Lipsia nel 1813, quindi cadde, il periodo dei cento giorni, quindi risorse, e la disfatta definitiva a Waterloo nel 1815, per cui Manzoni usa la parola giacque. Il poeta descrive poi se stesso come vergin di servo incomio e di codardo oltraggio. Cioè dice di non essersi mai comportato come coloro che hanno lodato i trionfi napoleonici solo per gretto utilitarismo e nemmeno come chi ha tenuto l'atteggiamento altrettanto vergognoso di denigrare Napoleone quando, persa ogni autorità, non poteva difendersi. Comportamento che il poeta condanna anche nel conte di Carmagnolo. Dall'alto della sua onestà intellettuale, Manzoni può quindi legittimamente commuoversi alla scomparsa di un uomo così unico ed eternarne la memoria con versi che forse resteranno per sempre. L'Ode prosegue indicando il quadro geografico in cui si sono svolte le gesta napoleoniche. Sono citate le due campagne d'Italia del 1796 e del 1800 e la campagna egiziana del 1798-99 dall'Alpi alle piramidi. Vengono poi menzionati due fiumi il Manzanarre che scorre nei pressi di Madrid e il Reno in riferimento rispettivamente alla campagna di Spagna del 1806 e ai diversi interventi militari in Germania. Con i versi Scoppiò da Scilla al Tanai dall'uno all'altro mar, Manzoni aggiunge che i territori che hanno visto i trionfi di Napoleone vanno dall'Italia meridionale, la punta di Scilla è in Calabria, alla Russia dove scorre il fiume Don, anche noto come Tanai, e poi dal Mediterraneo all'Atlantico, cioè, con parole di Manzoni, dall'uno all'altro mar. Manzoni si domanda «fu vera gloria?» Un'interrogativa retorica in quanto il poeta, cattolico, non è interessato alle glorie terrene di Napoleone ma solo al suo percorso spirituale. Convertendosi prima di morire, infatti, egli ha dato un'ulteriore prova della grandezza di Dio che si è servito di lui per imprimere sulla terra un segno straordinario della sua potenza creatrice. Manzoni descrive poi i sentimenti che ha provato Napoleone durante la sua scesa al potere. La gloria ansiosa e trepidante di chi è pronto a realizzare un grande progetto, l'insofferenza di chi deve accettare di sottoporsi al volere degli altri mentre pensa al potere che certamente otterrà, e l'esultanza per i suoi trionfi, così grandi che quasi era folle crederli possibili. E poi ancora la gloria della vittoria, l'umiliante fuga dopo la sconfitta in riferimento alla campagna di Russia del 1812 e alle disfatte di Lipsia e Waterloo, l'esultanza per la nuova vittoria e infine l'esilio a Santerio. Nelle strofe «Ei si nomò» due secoli l'un contro l'altro armato, Manzoni ricorda che Napoleone si impose da sé il titolo di imperatore, quindi «si nomò». Strappò infatti la corona dalle mani di Papa Pio VII per porla da solo sulla sua testa. E si ersi a giudice fra due secoli, il 700 e l'800, che rappresentano la rivoluzione francese e la restaurazione. In questa strofa, che secondo alcuni è fra le più notevoli dell'opera, Manzoni riconosce in Napoleone l'uomo che diffuse in Europa i principi della rivoluzione. Napoleone però rimane pur sempre un uomo, soggetto anche egli alle dinamiche che regolano gli accadimenti umani. Dopo la sua ascesa, fulminea, sparisce infatti dalla scena del mondo, costretto all'esilio e all'ozio forzato in quell'isola sperduta nell'oceano Atlantico. Qui il grande condottiero si trova in preda alle contrastanti emozioni che egli stesso ha suscitato durante la vita. Immensa invidia e rispetto, grande amore e fortissimo odio. I grandi eroi, secondo Manzoni, sono amati oppure odiati, non mediocremente sopportati. Napoleone, condannato a una vita inoperosa, pur essendo ancora energico e vitale, viene così sopraffatto dal peso doloroso dei ricordi. E Manzoni lo paragona a un naufrago che, mentre tende lo sguardo verso lontani approdi, viene travolto dalla furia delle onde che fino a poco prima dominava. Il condottiero ripensa allora alle tende degli accampamenti militari, alle trincee battute dal fuoco dell'artiglieria, all'ampeggiare delle spade dei suoi soldati, all'incalzare della cavalleria, agli ordini concitati e perentori che egli impartiva e alla loro fulminia esecuzione. Il ricordo del passato è per Napoleone soffocante e avvilente, ma i suoi tormenti vengono aglietati dalla provvidenziale mano divina che, discesa dal cielo, lo rende più sereno e gli permette di contemplare la vita ultraterrena. La fede cristiana, fede immortale, portatrice di ogni bene, fede abituata ai trionfi, può adesso vantare tra le sue vittorie anche questa. Mai nella storia infatti un uomo più potente di Napoleone è macchinato per rendere onore alla croce della passione di Cristo, quella croce eretta sul colle del Golgota e che doveva rappresentare una pena disonorante, il disonor del Golgota e che è diventata invece un simbolo di sublimazione. Manzoni conclude l'ode invitando al silenzio intorno alle stanche ceneri di Napoleone morente e a disperdere ogni parola irriverente nel momento solene della morte. Accanto a quell'uomo infatti sul suo letto di morte abbandonato da tutti venne Dio stesso, quel Dio che può abbattere gli uomini superbi con un soffio e risollevare coloro che si umiliano, che può punire con la disperazione ma anche concedere la serenità. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il 5 maggio, spero che abbiate trovato questo video interessante e che vi sia utile come sempre vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi alla prossima!